Oriana Marzoli al GF VIP, chi è, età, carriera, e il fidanzato, Ivan Gonzales, foto Instagram. Oriana Marzoli è un influencer, ma è anche un volto noto di Telecinco, il canale 5 spagnolo. Nata in Venezuela l'influencer ha raggiunto il successo in Spagna grazie alla sua partecipazione a diversi reality spagnoli. Attualmente è una dei vipponi di Alfonso Signorini nella casa del grande fratello VIP. Si tratta di un'ulteriore sfida per la Marzoli che ha deciso di mettersi alla prova anche in un reality italiano. Oriana Marzoli è nata il 13 marzo del 1992 a Caracas, in Venezuela. Ha 30 anni ed è un volto noto dei reality. Soprattutto in Spagna. Di lei sappiamo che ha partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne. Dove ha conosciuto un uomo, che è diventato poi suo fidanzato per anni. A Uomini e Donne ha corteggiato Cristian Perez. Poi non essendo stata la scelta è stata chiamata come tronista ed è proprio lì. Durante il suo percorso, che si è innamorata dell'italiano Tony Spina. Tony e Oriana si sono innamorati a Uomini e Donne, poi però hanno infranto le regole, si sono visti lontano dalle telecamere. Poi, tra tira e molla, hanno deciso di abbandonare insieme la trasmissione. Oriana, successivamente ha partecipato a Survivors nel 2014, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. E sempre insieme al fidanzato Tony ha partecipato ad Amora Proba, un reality della tv celena. E ora è pronta per entrare nella casa più spiata d'Italia, questa volta in Italia. Oriana, quindi, ha avuto una lunga storia d'amore con Tony. Poi è stata fidanzata con Ivan Gonzales, tronista di Uomini e Donne in Italia. I due hanno partecipato insieme a un altro reality. La casa fuerte. Attualmente la bella modella sembrerebbe essere single. Oriana ha un profilo Instagram e con l'account Etoriana Gonzales Marzoli vanta oltre 2,1 milioni di followers. Attualmente la bella è un profilo Instagram e con l'account e con l'account. Attualmente la bella è un profilo Instagram e con l'account. Attualmente la bella è un profilo Instagram e con l'account.